Dopo gli incontri formativi e divulgativi di Sì, Saggio, Guida Sicuro, il progetto sulla sicurezza stradale promosso dalla Regione Campania, attuato dal Lanci Campania in collaborazione con l'Associazione Meridiani, che si sono tenuti nei comuni di Quarto, Pozzuoli e Battipaglia, in presenza degli studenti di primo e secondo grado, si è svolta la prima lezione formativa agli studenti dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vambitelli di Caserta. Da quest'anno infatti il progetto si rivolge anche agli Atenei della Regione Campania. All'incontro hanno preso parte Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, e Maria Antonia Ciocia, direttore del Dipartimento di Economia dell'Università Vambitelli. Dobbiamo assolutamente intervenire e fare qualcosa, perché l'Italia con 3.000 vittime all'anno ha il record negativo a livello europeo di vittime della strada. Credo che questa programmazione debba andare avanti con il supporto di testimonial che possono dare messaggi che arrivino soprattutto ai giovani. Niente di meglio che coinvolgere gli studenti universitari su questo tema, che poi alla fine sono i patentati o i neopatentati. L'iniziativa si prefigge lo scopo di responsabilizzare i ragazzi, ma anche tutti i presenti, perché poi sulle strade gli attori sono tanti, e evitare tanti incidenti. Sisa Gio Guida Sicuro punta a stimolare la discussione e la riflessione sui temi della sicurezza stradale. Nella prima fase del progetto, durante gli incontri, gli studenti approfondiranno i fattori di rischio per l'utente della strada, pedone, ciclista, motociclista e automobilista. Le finalità del progetto riguardano l'orientamento dei giovani, favorendo l'acquisizione di comportamenti responsabili alla guida, stimolando la loro creatività attraverso un concorso di idee, invento una soluzione per la sicurezza stradale. La seconda fase prevede poi la premiazione degli elaborati che avverrà a Napoli nel mese di aprile del 2023, con la realizzazione di un villaggio sulla sicurezza stradale e di un galà sulla sicurezza. Il vicequestore aggiunto, Ludovico Mitilini, comandante della sezione della Polizia Stradale di Caserta, è Alfonso Montella, professore di sicurezza stradale dell'Università Federico II e presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Sisaggio Guida Sicuro. Sono pochi attimi che a volte si gioca il proprio destino, quindi l'attenzione, l'uso di cellulari, l'abuso di sostanze alcoliche, l'uso di sostanze superfacenti sono le principali cause degli incidenti mortali che hanno caratterizzato le cronache anche recenti della nostra nazione. Oggi sicurezza stradale significa impegno sociale di più parti, ingegneria, medicina, aspetti sociali, tutti quanti insieme per capire come la responsabilità della strada è condivisa. Da un lato possiamo avere il pedone, il pedone ha bisogno di un certo tipo di comportamenti che sono sottovalutati, dall'altro lato l'automobilista con rispetto al pedone e anche attenzione alle nuove forme di mobilità. Grazie.